Buongiorno amici del canale di Anto, non so come la pensiate voi ma io quando trovo un prodotto, un qualcosa, un oggetto in questo caso che vale la pena perché appunto è valido, mi piace condividere il mio pensiero e magari suggerirlo. In questo caso può essere considerato anche un oggettino futile, sono quelle cose che non servono mai ma quando servono è meglio, no? Essere stati indirizzati nella maniera migliore. Quindi oggi parliamo di palloncini, questo è un palloncino che avevo acquistato da Tiger, penso la seconda volta che sono andata in vita mia, scusate ho dato che mi ha, dicevo, l'ho comprato da Tiger per il compleanno di mio figlio, avevo organizzato tutto, mi mancava un palloncino. Quindi mi trovavo, penso ero all'Oreo Center, c'era questo negozio e ho detto andiamo a vedere chissà se c'è. Raga a 50 centesimi in offerta, la luce riflessa bellissima, ma qual è la particolarità? Questo palloncino dove i miei figli ci hanno saltato sopra, ci hanno fatto l'acqua, qualunque cosa, regge dal compleanno di mio figlio, cioè dal 16-6-2023. In offerta l'avevo trovato a 50 centesimi, non mi ricordo la marca, comunque l'ho trovato da Tiger. Raga, dovesse anche costare oggi un euro, un euro e 50, io ve lo straconsiglio. Speravo, avevo pregato le divinità potenti che durasse almeno un giorno, cioè il giorno del suo compleanno, siamo quasi a sei mesi. Vale tutti i bellissimi soldi spesi. A presto ragazzi per altri consigli.